Una giornata storica per Rossano Veneto alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per la posa della prima pietra di quella che sarà la nuova Piazza Duomo. Un'opera attesa da oltre 30 anni che promette di diventare il nuovo cuore pulsante della vita sociale e religiosa del Paese. Una giornata memorabile grazie alla presenza del nostro Presidente Luca Zaia e alle tante persone che hanno aderito. Mi sento veramente di ringraziare di cuore tutti i colleghi sindaci, le autorità civili, militari, religiose che hanno voluto far festa a Rossano. Nascerà una sala polivalente con cucina e bar in grado di ospitare 400 persone. La facciata sarà avvolta dall'elemento architettonico delle griglie frangisole in cemento e vetro, una concessione alla modernità che contraddistinguerà il nuovo look di Piazza Duomo. Il Presidente Luca Zaia ha promesso di essere qui presente a Rossano Veneto nel giorno dell'inaugurazione della nuova piazza. Bisogna completare i lavori entro due anni però. Il mio mandato scade nel 2023 e se riesco ad essere ancora sindaco nel momento in cui verrà terminata, ben contenta di invitarlo ancora, anzi sarà una festa ancora più grande. Se invece al posto mio ci sarà qualcun altro posso dire di essere stata assolutamente soddisfatta e contenta di essere arrivata fino a questo punto. Non era da tutti.